Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ultimo giorno della seconda settimana di allenamento ragazzi alleneremo le gambe e gli addominali, partiamo con lo squat, faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5 partiamo con un peso di 30 kg ragazzi, ma prima di cominciare con la prima serie ovviamente ci peseremo Grazie a tutti Grazie, 56 kg, punto 60, massa grassa 11,3% Bene ragazzi, prima serie, 20 ripetizioni, ovviamente 30 kg Grazie a tutti Per rendere il video ritiramente più corto io vi taglierò le serie centrali per provvedere direttamente la quarta Ok ragazzi 5 ripetizioni volate Prossima settimana metterei 64 kg Siamo pronti per lo squat bug, ovviamente faremo 3 serie per 8 ripetizioni Voi ne avrete solo una perché sono uguali tanto Grazie a tutti Quarante Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti ok ragazzi è pesante un ultimo esercizio l'abbiamo fatto però questo è importante ora vi faccio gli altri esercieri e ci vediamo nel prossimo esercizio ragazzi terzo esercizio ovviamente abbiamo la leg station 40 kg faremo 4 serie per 10 ripetizioni ovviamente mi faccio le altre 3 serie da solo e noi ci vediamo con i femorali ragazzi faremo sempre 4 serie per 10 ripetizioni prima serie fatta io mi faccio le altre 3 serie ovviamente noi ci vediamo con l'ultimo esercizio delle gambe che sono i polpacci ragazzi eccoci qua i polpacci vengono i telecalico 50 kg siamo pronti per i polpacci ragazzi faremo 3 serie per 15 ripetizioni voi ne vedrete una perché sono tutte troppate è inutile ragazzi poi ci vediamo con gli addominali ci vediamo con gli addominali ci vediamo con gli addominali Grazie a tutti. Ragazzi, tre serie completate, distruttivo, ovviamente, non tantissimo perché alla fine mi sto abituando a questi sit-up, però ancora si sentono tanto. Passiamo al secondo esercizio, faremo bicicletta, faremo tre serie per 15 ripetizioni per lato. Grazie a tutti. Ragazzi, abbiamo fatto questo bicicletto, questo esercizio sì che è duro, questo è durissimo, questo è durissimo. Ragazzi, ultimo esercizio per addominali, addominali bassi, faremo il reverse crunch, faremo tre serie per 15-20 ripetizioni. Grazie a tutti. Ragazzi, sono distrutto. Addominali completati, sit-up, mi hanno sfinito completamente ragazzi. Ovviamente sono stanchissimo, adesso check fisico ragazzi e poi ci vediamo la settimana prossima con la terza settimana di allenamento. Ciao. 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 Ciao.